Continua a crescere il rapporto tamponi positivi in Irpinia. Nelle ultime 24 ore sono 60 i contagiati su 780 test processati, ben 11 nel piccolo centro di Vallata, mentre respira il capoluogo e da tre giorni non si contano vittime. Sempre più classi però sono in isolamento ad Avellino e in diversi comuni della provincia. Il virus insomma avanza minaccioso nelle scuole di Irpinia. Gli ultimi casi al Palazzotto, alla Dante Alighieri e a Monteforti Irpino dove è stato prolungato al 7 lo stop all'elezione in presenza alla primaria Montessori di Alvanella per un'altra positività di un allievo del plesso. Ma intanto gli studenti protestano al coro di La scuola sicura non si chiude, paghiamo decenni di disinvestimenti denuncia Chiara Mariconda dell'UDS Avellino e oggi questi sono i risultati. Le scuole non erano pronte a reggere l'urto della pandemia. Già non avevamo adeguate strutture, adesso la situazione è diventata ancora più tragica. Noi chiediamo sicurezza per tutti gli studenti molto volenterosi che vogliono tornare in classe perché è in classe che si fa la scuola, non a distanza. Potevamo accettare la DAD a marzo in un momento di emergenza totale, di piena pandemia, ma in questo momento c'è bisogno della presenza. Questo 50 e 50 non ci garantirà un ritorno migliore, anzi metterà in ginocchio le scuole perché non hanno un'adeguata connessione per sopportare questo tipo di didattica. Ma intanto le scuole che siano in presenza o in DAD sono sempre nel mirino dei vandali. Enesimo raid alla elementare di Rione Parco e Gnoti hanno forzato una finestra sul retro, rotto un computer e messo a soquadro le stanze dell'associazione Primavera 2000.